salve vi saluto da napoli allora sono caterina ripresentarti ad un'azienda un progetto molto interessante ecco allora vorrei presentarti un progetto interessante e la storia della sua creazione e sviluppo abbia già 45 anni questo progetto può fornirci entrare viaggi l'opportunità di fare la storia attraverso in un progetto ambientale globale e allo stesso tempo creare capitale reale per la tua vita spensierata e anche vorrei dirvi che con te parla caterina dato gili un curatore dello sviluppo regionale nel campo dell'implementazione del tecnologia ad alta velocità e ho esperienza di lavoro in strutture statali 15 anni di esperienza nella comunicazione e nelle relazioni in ambito medico o anche 18 anni di gestione di imprese private ed esperienza imprenditoriale nel settore delle vendite e dei servizi sono speciali stati di lingua italiana a livello a due e specialista certificato di mediatore europeo interculturale a due quindi non sono tanto da tanto tempo che sta in italia e allora il progetto di cui parleremo oggi è di proprietà del signor anatoly junetsky la proprietà in del intelletto è stimato in 400 miliardi di dollari ed è dopo 45 anni del suo sviluppo che dal 2014 è diventata una grande azienda un progetto che oggi alle migliori offerte del mercato anatoly junetsky chi è è un scienziatore e inventore di oltre 200 articoli scientifici 20 monografi e più di 150 invenzioni nel campo delle industrie delle costruzioni dei transport dell'energia meccanica elettrica e chimica e allora lui è uno sviluppatore di numeri progetti di infrastrutture di trasporto basati su sistemi di trasporto spaziale e geospaziale e nonché tecnologia di stringa è il responsabile di due progetti membro della federazione cosmonautica protesta generale di ust e fondazione del gruppo isl anni 1998 e 2002 ecco e allora la sua idea di creazione si come una filosofia di questo trasporto è che il trasporto dovrebbe risolvere a maggior parte dei problemi e non dovrebbe essere la loro fonte della loro generazione i mezzi di ust si spostano prosteranno infatti su uno speciale cavalcato a funerotaia fuori terra e utilizzando l'aerodinamica aumentando la velocità garantendo una sicurezza senza precedenti un uso razionale del territorio e delle risorse minimizzando l'imparato dei trasporti sul ambiente e tuttavia costo di costruzione e funzionamento è molto inferiore rispetto a soluzioni di trasporto disponibili per oggi e anche la costruzione della linea stringa richiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto allora quando devi costruire linea di stringa devi allora costruirsi 20 quando 20 25 meno fin uvi perché noi non abbiamo bisogno di raddrizzare il paesaggio per sale le rocce rompere le rocce versare acqua e per costruire strada sono necessari solo soliti supporti con un binario di fune e per viaggiare su sky transport e fornire servizi di consegna con un trasporto più veloce esistono tre tipi di pacorde ridici semi ridici ed elastici elastici allora ognuno dei quali ha il proprio tipo di binario come sappiamo quando un auto accelera ad alta velocità si deve fare i conti con l'aria d'aria flusso in arrivo e si chiama resistenza aerodinamica sky transport e mila volte più facile da gestire e alo grazie allo scafo affilato in grado di raggiungere velocità di 500 chilometri e allora implementando questo progetto possiamo migliorare molte aree di servizio a muoverci molto più velocemente portiamo con i ratei dei dividenti e viaggiamo in italia o in qualsiasi paese che sogniamo e allora in pratica utilizzando questo progetto e questo trasporto possiamo portare le persone alle cure di emergenza più rapidamente e ottenere interventi chirurgici in tempo con un rapido trasferimento alla clinica necessaria e ti dico che ogni partner della nostra azienda è in una posizione redditizia qui è possibile firmare un successore e anche ricevere entrare aggiuntive dal programma di partnership e di cui parleremo in un incontro specializzato per gli interessati il vantaggio e il fascino della nostra azienda sta nel fatto che una forte unione di persone con obiettivi e valori comuni e rappresentanti di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per ottenere un reale benessere finanziario che per oggi è diventato un processo irreversibile di cui parlano i progetti già pianificati realizzati pianificati e firmati e dove è realizzato già questo progetto si vede quanto è pulito l'atmosfera ecco ti dico da dove nasce tutto e allora la società sky world community è stata disponibile per noi quindi in 2014 come si chiamava prima sky world community moe si adatta con un nome cambiato dal 2022 fin dell'anno 22 22 e allora è stata registrata in inghilterra in isole vergini come società europea nel 2014 e pertanto i diritti di single co partner sono scritti e tutelati dalla normativa europea inoltre l'ordine di partecipazione è inviato dal registro pubblico inglese all'indirizzo indicato e dopo la registrazione e ecco questo documento l'ordine di partecipazione e allora dopo la registrazione della società a sue fasi di sviluppo sono state suddivise in dieci fasi ed oggi siamo spostati già a quindicesima fase ecco perché sta spostando così tardi poi completamente della quindicesima fase si sta già spostando sul mercato mondiale e ci stiamo avvicinando alla maturazione dei dividenti ecco c'è un stabilimento di produzione un centro di innovazione in charge a emisc dove lavorano 3.000 ingegneri istruttori esperti che gestiscono l'idea taglio del trasporto di futuro con la massima precisione e qui voglio dirvi che ogni dettaglio a 100 anni di carania e allora ecco tecnopark è stato realizzato ed operativo in bella russia nella città di marina corca e negli emirati arabi uniti in particolare nella città di charge nel centro di innovazione intorno all'università americana dove già possibile visitarli all'università americana negli emirati arabi c'è una linea di prova del nostro trasporto che opera per chilometri intorno all'università questa distanza comprende 21 stazioni ogni visitatore può smirimentare il conforto di questo progetto e viaggiare con l'autostringa il futuro e per oggi tutto già è disponibile e allora può se ti interessa da dove prendiamo i nostri benefici e tutti i nostri profiti che sono e allora esattamente i nostri benefici ci sono che il 32 per cento della quota del valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e noi diventare con proprietari di tecnologie innovative e allora pacchetti azionari partono da 50 dollari e arrivano fino a 150 mila dollari a seconda dell'interesse degli azioni azionisti un rappresentante di qualsiasi classe sociale può investire è possibile usufruire di rate interni a tasso 0 su pacchetto azionario non perdere di ottenere maggiori informazioni e fornisci subito al tuo invitato il link di registrazione o fissa un incontro per darti risposte sospetti che nella direzione che ti interessa ecco e allora dopo quando completiamo a verificazione sulla nostra piattaforma azienda ti offre offerte specializzati per la tua famiglia con i tuoi bimbi studenti per cambiare loro vita in meglio e ti dico che personalmente per me è stata una grande gioia rendermi conto di aver comprato 120 mila dollari per da soli milla dollari cosa che non avrei potuto fare sì in vita reale quanto dovrei risparmiare così tanto e per me che l'azienda usd è diventata il senso il supporto della mia vita e qui io ho cominciato a guadagnare allora i soldi reali che erano sempre disponibili per me insieme con questa azienda che sta in via di sviluppo anche io ho cominciato mi ha fatto una persona migliore facendo tutto quello che faccio ancora per il futuro la mia vita già è cambiato molto allora tutto e maggior parte tecnologie sono sviluppati abbastanza è sicuro che avrai una domanda parli molto ma perché non usiamo un'auto ibrida ma io ti dico che quando carichi l'auto ibrida in pratica devi collegarla a una centrale elettrica che funziona di nuovo o a carbone o in un'altra materia prima e quindi crea danni alla natura e i propri per propri interessi propri obiettivi umanità abbiamo danneggiato la natura e paesaggi stiamo battendo porreste prosciugando fiumi bacini idrici distruggendo montagne sciogliere e quindi la natura risponde con disastri naturali ecco noi stiamo partecipando in questo progetto perché vogliamo salvaguardare il destino della nostra pianeta ricordate che costi operativi sono 20 25 volte inferiori al trasporto su strada già esistente e la produzione di energia e al minimo perché genera l'energia più che sufficiente e non dipende alla centrale e negli anni setta allora esistevano questi problemi di inquinamento e nel 1978 signor anatoly junetsky scienziato inventore proteggista di navi volanti ripresento il suo primo piccolo scientifico dopo cinque anni di ricerca sull'atmosfera e in due anni l'atmosfera è stata era stata molto inquinata e continuare così per decenni avrei esposto la popolazione a sconosciute malattie e purtroppo questa situazione esiste esiste già abbiamo superato tanti guai e sappiamo che le strade sono congestionate d'auto e con la loro emissione possono causare l'inquinamento malattie ma c'è ancora un respiro nessuno non vuole prendere le sue mani cambiare questa situazione ma in cui per oggi abbiamo la possibilità svegliarsi riprendersi cambiare qualcosa nella nostra vita e purtroppo ci sono anche paesi che dovranno mettere in alto leggi sulla sicurezza e la causa di molti incidenti e la presenza di del povi 19 si ci ha mostrato la necessità di un trasporto ecologico e la circolazione ha causato da decenni problemi strada sovraffolata mancanza di sicurezza dispendio di energia colossale è la natura così inquinata che non sappiamo ancora quante malattie tengono se non faremmo già oggi se non cominceremmo evitare questi problemi allora questo è il motivo questo è il motivo per cui cai transport e il trasporto più necessario e più richiesto nella storia dell'esistenza umana e questo non è tutto quando decidi essere una parte di questa azienda un membro se tu hai i tuoi profitti quindi aziendati da molto opportunità ecco e di qui nostri profitti sono i ratei dividenti guadagni dal programma di partner l'ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro diventi con proprietario di tecnologie e partecipa a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu è tutto e anche passi alla storia come fino al troppo e crei capitali per una vita spensierata hai la possibilità di viaggiare per raggiungere luoghi molto belli interessanti per te attestato di formazione in specialità impegnative e altamente pagate e retribuite allora il valore nominale che è molto importante per te per me pure è stata molto grande gioia che il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni quanto di più ancora cresce la tua gioia diciamo a e implementando e realizzando questo progetto in italia crea condizioni per fare favorevoli in direzione del turismo e utilizzare prodotti e tecnologie ecologiche è un risparmio che per noi anche per l'altra bellissima pianeta che cos'è più importante per te che ci sia un prodotto reale che può visitare toccare e sentire la sua velocità e comodità per te stesso e non ha bisogno di paragonare a nessuna altra azienda questo è l'unico progetto ecologico globale che ci offre molte opportunità interessanti personalmente per me e per i molti partner è diventato ancora più credibile che l'italia sia tra i 200 paesi partner è una grande gioia e l'azienda tiene conto dei nostri diritti abbiamo questo comporto quindi allora nostri diritti secondo la legis l'azienda tiene conto dei nostri diritti secondo la legislazione europea e godiamo di tutti i diritti del proprietario questo è un grande conforto per noi quindi il produttore e creatore il sognato junetsky presenta una relazione annuale sul lavoro svolto e la nostra azienda ha una disposizione del denaro se decidi improvvisamente di lasciare azienda che offre di raggiungere più 4 per cento e determinate condizioni restituire i soldi come mutuotario e tuttavia se qualcuno dovesse lasciare l'azienda con questa richiesta però questo precedente non è stato ancora rilevato sì e lo stesso Anatoly Junetsky ha già 74 anni ed è sicuro al 1000% che tutto questo si realizzerà dappertutto nel mondo nel corso della sua vita e lui non ha rifiutato realizzare questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo allora per avere maggiori informazioni c'è anche un sito di junetsky.engineer dove è possibile vedere un elenco completo di una serie di permessi e certificati che riflette 45 anni di duro lavoro del signor Anatoly Junetsky al quale ha dedicato la maggior parte della sua vita e del suo lavoro e allora avendo esperienza di comunicazione mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente nella azienda UST che si è sviluppato in Francia, Georgia, Polonia, Germania, Spagna, Italia, Greco e Israele e con l'aiuto del mio team in soli tre anni sono stati investiti oltre 35 mila dollari e tutto questo è successo grazie alla comunicazione online e allo stesso tempo in questa fase del suo sviluppo l'azienda ha offerto programmi di formazione certificati attualmente le specialità più richieste e altamente vagate in cui il mio team attivamente è coinvolto puoi immaginare che prima del 2014 le persone non stavano investendo letteralmente in nulla c'era solo un'idea e il grande disinteressato lavoro del creatore di questo progetto personalmente per me la mia storia è ricca di successi e progressi con gli insegnamenti in azienda ho raggiunto lo status di Master perché è un'azienda in via di sviluppo e il nostro sviluppo è necessario insieme alle tecnologie del futuro ecco è quello che è molto importante per tutti gli azionisti e investitori il trasporto esiste davvero e si adatta a tutte le condizioni climatiche il suo corpo è resistente alle radiazioni e converte l'energia solare e luce del giorno in elettricità e può letteralmente servirci senza sota e muoversi ad alta velocità i termini di trasporto passeggeri può trasportare un numero molto maggiore in 24 ore rispetto ad altri trasporti già esistenti i termini di inquinamento siamo a zero e sostante nocive e quindi nessun danno per la natura non esiste i termini di incidenti è il più sicuro perché evita fisicamente tutti i veicoli esistenti ricordiamo che oggi abbiamo tre tipi di veicoli che necessitano di consumo trasporto marittimo terrestre e aereo e tutti tre possono causare inquinamento e danni per la natura ecco e allora us fa parte di un gruppo di aziende proprietarie delle proprie aziende che nell'implementazione delle tecnologie innovative di us e ti includono una gamma completa l'attività e tra qui tra qui un'azienda di iniezione completamente avanzata la propria compressa con una vista esperienza nella produzione dei veicoli ecco penso che già è visibile come un sky bay e us e ti è un porto unico che servirà servirà salverà la vita ai milioni di persone centinaia di miliardi di età di paesaggi miliardi di animali e uccelli e permetterà loro a ciascuno e non ti posso non dire ancora di tutti i profitti che abbiamo quando decidiamo entrare aggiuntive in questo progetto e allora i nostri profitti sono i dati e i dividenti guadagniamo dal programma di partner possiamo avere e anche dare ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro e anche diventiamo comproprietari di tecnologie innovative partecipiamo in un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu anche passiamo alla storia come pinatropo e creiamo capitali per una vita spensierata abbiamo la possibilità di viaggiare e attestato di formazione in specialità innovative e altamente retribuite il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni è come un esempio ti dico di nuovo che era grandissima gioia mi conto di aver comprato 120 mila dollari per da soli mille dollari che non avrei potuto fare nella vita reale o in quanti anni potrei risparmiare così tanto perché l'azienda usd è diventata un supporto e il senso della mia vita dopo che io ho risparmiato abbastanza il numero abbastanza grande e ancora l'azienda mi sta pagando i bonus per qualsiasi attività quello che faccio allora ciò che è importante per te alla fine c'è ancora la possibilità di unirti a questo progetto ambientale più globale è un unico e senza precedenti e cambiare la tua vita in meglio allora tutti i profitti e diritti che godiamo d'accordo con la legislazione europea non ti offre un'altra azienda è tutto così è sistemato sulla tua piattaforma puoi visitare e avere maggiori informazioni e ancora allora ti ricorderò che dove già realizzato il nostro progetto è visibile quanto è pulita l'atmosfera ci sono progetti di navi volanti progetti cosmonautici quindi signor Renato Iunezchi è un creatore scienziatore e ingegner costruttore di tecnologie innovative e lui già ha cominciato un altro progetto Gomus dove già spostiamo alcuni partner che siamo interessati e allora come vi ho detto un documento di partecipazione e proprietà ti arriva dal registro inglese all'indirizzo indicato ecco il documento tuo e dopo che azienda ti offre molte opportunità e in questa fase del suo sviluppo offre specialità certificate altamente retribuite per oggi questo è il rispetto alle controparti esistenti è un trasporto ecologico e non è possibile paragonare a nessun'altra azienda e allora accendo questa cosa che costi operativi sono al minimo quindi allora non consuma nessun gasolio e non dipende alla centrale elettricità e può servirci senza sosta e l'inquinamento ambientale è al zero quindi non usa nessun gasolio e non causa l'inquinamento della natura e il livello di incidenti stradali non esistono e anche in qui siamo al zero e quindi evita tutti i veicoli già esistenti ecco già ho finito questa era l'azienda UST UST String Technology con le sue offerte e opportunità e io sono stato attratto dalla qualifica di investitore master di questa società e grazie per l'attenzione sono un investore, leader, speaker, master, curatore regionale in Italia mediatore europeo interculturale vi saluto per dopo arrivederci